Da Neff il forno da incasso full steam con porta scomparsa slide and hide e BAM12 funzione di cottura con programmi preimpostati e sistema di autopulizia. Alla cottura tradizionale full steam abbina anche la funzione di cottura a vapore, grazie alla tanica da un litro di acqua posizionata nel vano superiore e le funzioni di rigenerazione cibi, lievitazione e scongelamento. I comandi touch control vengono attivati tramite un display a colori per impostazioni rapide e precise.